Ehi, chi ha finito di costruire la mia fattoria? Daisy, sei stato tu? No Chi ha finito di costruire il mio castello? Sei stata tu, Boo? Eccellente, hanno risolto il puzzle delle forme! È un Ibis! Eccellente, hanno risolto il puzzle delle forme! È una tartaruga! Guardate! Ma è la ladra di Pooh! Eccellente, hanno risolto il puzzle delle forme! Come facciamo ad arrivare alla porta con questi pupatti?